Torno alla stadio alla Villa Poggiaccaiano. Da venerdì fino a domenica la Villa Medicia di Poggiaccaiano sarà nuovamente teatro della storica manifestazione che ricorda l'arrivo della principessa Giovanna ad Austria prima delle sue nozze con Francesco De Medici, figlio del Duca Cosimo I. È una festa di rievocazione storica ma al tempo stesso un'importante festa popolare per noi poggesi con il contributo di tutte le associazioni di volontariato che sono presenti sul nostro territorio. È una festa partecipata, è una festa ormai storica perché siamo alla 31esima edizione e in questo vogliamo anche quest'anno valorizzare sempre di più la nostra splendida Villa Medicia che costituisce un punto di attrazione fondamentale per la nostra città. Saranno tre giornate di appuntamenti nel parco della Villa e nel borgo di Poggio ma anche di visite guidate gratuite alla Villa stessa, patrimonio dell'UNESCO, alla mostra nelle antiche cucine e alle suggestive cucine segrete granducali del Seicento. Ma entriamo nel dettaglio del programma. Già da domani infatti la sedia alla Villa tirerà sui battenti. Iniziamo il giovedì con una prefesta, iniziamo nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio dalle 19 in poi. Poi il clou sono i tre giorni, venerdì, sabato e la domenica. Inizieremo proprio con un tipico evento della festa che è quello dell'apertura della fontana che è ubicata proprio al muro della Villa Medicia che farà sgorgare il vino. Questo è uno degli aspetti caratteristici della nostra festa. Daremo il via agli spettacoli che saranno nei giardini della villa, a una serie di manifestazioni che si snodano nelle strade del centro storico della nostra città.